bella raga ci troviamo nel cortile di una famosissima discoteca che ormai è chiusa già dall'immagine così penso avrete capito dove ci troviamo siamo all'ultimo impero ex templare ex privilege buona esplorazione raga che pizzeria è un peccato che l'abbiano demolito così ah tra l'altro nuova torcia, nuovo upgrade è lì il frigo si i divanetti però noi prima abbiamo visto da fuori che c'era c'era qualcuno sul tetto chi? chissà dov'è adesso andiamo sì no 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 Questa cos'era? Guardi che c'era tipo una console in estate Qua si entra già sotto, qua c'è una statua rotta Questa cos'era? Guardi che c'è un'altra cosa L'acqua è sempre fuori, magari quella scala che vedevamo portata qua Qua qualcuno è passato, qua qualcuno è in recente è passato Non so se stanno rompendo qualcosa dice qualcuno Sì, sembra sì, è come se qualcuno ci portava il peco Ma qua che cavolo era? Scusate, qua entrati? Qua c'era un ingresso, qua c'era dove pagavi? Madonna è pochissimo dentro, ma è pochissimo dentro C'è un frigo Poi siamo andati avanti, vediamo com'è Ah ma lì è praticamente, sei subito qua al piano terra, allora dovremmo girarci Perché poi quella scala rapporta è già al primo piano Vedere di giro, c'è un attimo qua sotto E' soffitto Vedere di giro, vedete, vedete Vedete, 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 vedete Ah mercolosa? Lo so Ah qua ero quando ero prima Io te ero prima Si Qua cos'è? Tipo una cucina No Te paro Scuai paro Miquel Era grosso, eh? Zona tere servizio A porca mi sei Guarda quanti specchi ci sono Funco in quadro trovi uno specchio Si L'hanno distrutto tutto, guarda lì Comunque enorme Questo posto Là cos'era? Tipo il privelo Qua c'è la scala Che va su? E' tutto in vetro Va su Qui che altro io spero che quelli che abbiamo visto sul tetto erano solamente dei ragazzini Qua c'è? Qua c'è? Non è troppo Ah ma secondo me da qua è l'entrata principale Se devo girare tanti ci sono ingeriti senza che ci ammazziamo, mi hanno distrutti tutti. Guarda qua, tipo con tutte le fioriere, magari una volta, qua hanno morato, ci sono i mattonelli che si muovono, questa qua è l'entrata, facciamo soltanto attenzione, vieni qua, c'è tutto il vetro, l'inizio di quella era tutto aperto. Eh ma quella è una strada infatti eh, quella è una strada che portava qualche parte. Siamo per entrare qua al parcheggio, vedo il semaforo che avevi visto qui, e se la portava. Guarda tutto è stato. Entriamo dai, noi siamo arrivati da lì no? Sì sì. Guarda qua. Tutto l'impianto, l'aria, guarda qua. Qua penso che era invece il guardaroba. Se vogliamo andare là dietro, a vedere facciamo un posto da fuori. Qua cosa c'è? Quali è la scala principale? Buonômada tutto isp construct. Agua vai su76are? ah, qualcuno è dimensionale. Sì, ora li ha scritto anche la parola Che tutto questo era solo l'entrata Sì, sono entrata a zero Cioè guarda roba Tutto il piano, il piano elettrico Ma è finita qua, la stanzetta avanti Si sono portati veduti Il divanetto Minchia ma enorme Siamo sulla piena terra ma enorme Ve ho che cadono quei pezzi qua Eh non conviene andare avanti qua Qu'è guarda qua? Tutto il camerino Numero Guarda quanti, guarda quanti Guarda quanti appendi abiti Guarda che hanno andato nell'edificio a fianco Comunque adesso l'ho visto, guarda qua Comunque era tanto, tanto tipo come per dire Come per richiamare tutto il lusso sta discoteca Ti dava senso di lusso comunque Ti dava senso di lusso comunque Guarda qua Guarda qua, guarda davvero va prima Guarda davvero va prima Guarda davvero va prima Poi magari non c'è nessuno però Poi magari non c'è nessuno però Qua cosa c'è? Guarda qua come trascuda Guarda qua il petro Non so cosa serviva Guarda qua i pezzi del soffitto Scusami del soffitto È l'acqua che cocciona da qualche parte Guarda qua Guarda qua Un altro pancone padre Minchia comunque Non deve essere niente male In quel posto È stato vandalizzato di brutto Ma di brutto Un po' è gigante proprio finizio, guarda quanto cazzo è grosso, tutto enorme qua c'era tipo una fontana, no? no perché è un mucchetto, ah si, lì si mi sa che vedo? si con quei tanta acqua che fa ruone, guarda sto pancone come era fatto, tutto appena indietro, mica ma è gigante sto posto, guarda vedi giacoccia a far ruone, a volte ci sei, però qui ci sei qualcuno poi, c'è una qua, guarda che roba che è da sto posto è vero qua c'era un bagno, con una roccia, magari era di indipendenti, e qua con la tendina così sul muro, il sonorizzato al massimo, guarda qua quanto polistirono, cazzo ci piacevano qua dentro, qua passa sotto tutto il corpo, qua c'è un altro bagno, c'è un altro bagno, c'è un qua c'è un altro bagno, qui, come sposa, è un altro bagno, qui, qua ecco, questo è un altro bagno, qua c'è un altro bagno, ora devo andare a farlo farlo, qua c'è un altro bagno, qui, qua c'è un altro bagno, qui, qua je stai disintegrando non conviene tanto andare, guarda come è crollato minchia, guarda quante infiltrazioni d'acqua sta venendo giù eh passiamo di qua e saliamo al massimo tanto di qua penso che vai fuori perché si vede tanta luce e poi lì tanto è un'altra scala che magari è la stessa che porta su cioè più che altro non rischiamo lo guardiamo così da lontano minchia ma sai che svarione con tutti questi colori vuoi andarla dietro? la c'è una porta magari passiamo di là o andiamo direttamente su tanto qua penso che siano tutte stanze vuote cazzo d'acqua che coccioniamo questa qua è una scala di merda andiamo di là va cazzo si staccano i pezzi al muro pure ora dietro c'è un bagno forse sono noi siamo arrivati da di qua si 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 sentivamo rumori era l'acqua che gocciolava siamo arrivati da di qua saliamo ma dici che conviene passare sui vetri dove non ci sono guarda qua anche il soffitto c'è un specchio anche lì puttana sei umido occhio occhio che si muovono occhio che si muovono occhio che si metti i piedi non ci sono vieni madonna come è venuto giù tutto porca tutto contro il soffitto c'è qua attenzione guarda è oltre il pangolo vediamo che ci sono pieni di attraverso le schierie tra sono guarda qua guarda qua vetro e specchi da tutte le parti guarda qua guarda qua so che dove metti i piedi guarda qua guarda qua comunque era pieno di scale pure salivi da una parte uscivi dall'altra qua c'è tutta una mochetta guarda il privè guarda il privè sì perché vedi dappertutto vedi qua sicuro guarda qua come è mochettato bene bello pure sì vedi qua c'era tipo magari il cubo dove ti balla la ballerina vedi che c'era il cosa magari eh non so posizioni anche qua secondo me erano tutti privè questi qua col tavolino i colori me li ricordavo che erano questi azzurro di volare e azzurro non mi ricordo bene minchia qua è tutto vetro la minaccia così sopra minchia vabbè a parte che c'è tutti i provi di ferro vediamo ancora così poi proviamo a andare dal fondo che c'è una porta guarda una di là ah qua c'era tipo un altro bar lì già lì già lì già lì già c'è un cuore da scara che da scuola Ah, guarda, guarda, guarda Guarda, guarda Ah, non Guarda, guarda Che posto? Guarda quanto vetro che hanno dato Ah, qua c'è la mascara Qua vai fuori, non so dove porta C'ha un botto di infiltrazioni, guarda qua Sta marcendo tutto qua Porca putta Adesso viene giù di lì, mi sa, non manca mai No, era la, era tutta quella parte la, però guarda lì come è correllato tutto intorno Non c'è susto, eh Guarda il vetro persino adesso Sì, ma lì hanno spaccato tutta la vetrata, era tutto vetro così come questo Vabbè, possiamo andare di là, un pezzettino a vedere, basta passare a questo corridoio Allora andiamo a vederla al fondo, passiamo a questo corridoio andiamo a vedere di là Dov'è? Dove vuoi andare là? O là? Fai occhio soprattutto qua, stai vicino al corrimano Che posto però guarda anche qua, sempre specchi e vetro, dappertutto Immagina con le luci che sbariono, che era qua dentro Con tutte le luci accese che sbariono, che era qua dentro la sera E sta terra dove cazzo è arrivata? Dai vasi questa Vedi era tutta questa parte qua al fondo che si è rotta Qua anche era tutto specchio, mi sembra tipo una cosa a parte diciamo Come riservata sai Eh no, quello si, lo so, però Proprio quel pezzo lì Quando mi siamo saliti prima? Quando mi siamo andati là Vedi? Tutto, tutto distrutto Guarda lì una statua decapitata Qua si è distrutta Qua dove cazzo sei? Manchiamo qua c'è tutto l'impianto, guarda qua Qui si può passare Certo Qua è tutto Vabbè ma è una lastra A parte che qua parte i tubi, i pezzi che non ci sia niente, sei lì tu Non è un bel cazzo Qui si può passare Qui si può passare E un colpo di 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 lo soffitto era fatto diverso dirà c'è un tavolino infatti in marmo o proviamo andare in quella porca miseria o saliamo se non ci serve quella porta dal fondo da provare a vedere ma comunque secondo me queste qua anche erano cantane vero era un fontane o piante che cazzo c'era qua e sì perché guarda quale rocce le hanno rotte sai dove è già dove è caduto così non ti cade il resto in testa tutte infiltrazioni d'acqua guarda qua guarda lì com'è dove siamo qua qua siamo sul tetto qua siamo sul tetto ah quello lì è del mobilificio quello qua è pieno di festoni qua è pieno di festoni boh c'è un bagno blu con una vasca da bagno ah là si è sopra il tetto guarda qua si è sopra il tetto della discoteca magari c'è un impianti luci tutto antenne televisori guarda qua sa che cavolo servivano quelli forse secondo me erano quelli che facevano i giochi di luce eh sì perché vedi che qua sono tipo lei verde qua è fucsia e lì azzurro ma che qua un battitore di tosse ma qua lo canta non mi ricordo è diventato raga da questa esplorazione tutto ci vediamo alla prossima bella grazie